Gianni Morandi Gianni Morandi, d'amore d'autore, il nuovo album esce il 17 novembre Gianni Morandi, d'amore d'autore, il nuovo album esce il 17 novembre. DMRO do lunedì 28 agosto 2017. D'amore d'autore, il nuovo album di Gianni Morandi, uscirà il 16 novembre 2017 e il giorno dopo Nei negozi. E parte anche il tour. D'amore d'autore, a quattro anni di distanza da bisogna vivere, Gianni Morandi torna con un nuovo disco di inediti d'autore. Il quarantesimo album di inediti dell'eclettico artista di Mondidoro avrà come filo conduttore l'amore. D'amore d'autore uscirà sui Tunis dalla sera del 16 novembre 2017 e in tutti i negozi dal 17 novembre per Sony Music. Gianni Morandi, d'amore d'autore Tracklist, in attesa di ufficializzazione. Gianni Morandi, d'amore d'autore Tour 2018. Gianni Morandi porterà i nuovi brani in giro per l'Italian e più importanti Palasport con il Gianni Morandi Tour 2018 d'amore d'autore. La prima tappa sarà al Rimini RDS Stadium il 24 febbraio. I biglietti del tour sono in vendita dalle 16 di oggi, lunedì 28 agosto, alle 1500 di martedì 29 agosto sulla pagina Facebook ufficiale di Gianni Morandi. Successivamente i biglietti saranno disponibili sul circuito www.tichetone.it, dalle 16 del 29 agosto, e nei punti vendita e presso le prevendite abituali, dalle 16 dell'1 settembre. Di seguito le prime date annunciati del tour, prodotto da FEP Group e Riserva Rossa, in collaborazione con Mormora Music. 24 02 Rimini RDS Stadium. 2602 Montichiari, BS, Pala George. 2802 Conegliano, TV, Zoppa Sarena. 0203 Genova RDS Stadium. 0303 Torino, Pala Alpitor. 0503 Firenze Mandela Forum. 10 03 Roma, Pala Lottomatica. 12 03 Boli, SA, Pala Sele. 15 03 Reggio Calabria, Pala Sport. 17 03 A Cireale, CT, Pala Art Hotel. 19 03 Bari, Pala Florio. 21 03 Ancona, Pala Prometeo. 22 03 Padova Chioene Arena. 24 03 Bologna, Unipol Arena. 2803 Milano Mediolanum Forum.